Le nostre responsabilità nella vita di tutti i giorni, in casa, al lavoro, in famiglia, nello studio, sono tutti aspetti importanti della nostra esperienza terrena. Ma non sempre i momenti che viviamo sono semplici e gioiosi, a volte ci sono anche momenti difficili che ci mettono a dura prova. In questi casi non dobbiamo mai escludere l'aiuto degli angeli. Chiediamo aiuto agli angeli quando dobbiamo gestire le nostre relazioni e mantenere pace e armonia. Chiediamo aiuto agli angeli per svolgere al meglio il nostro lavoro e offrire un buon servizio agli altri. Chiediamo aiuto agli angeli quando studiamo, dobbiamo sostenere esami o quando vogliamo rimanere costanti nei nostri propositi più importanti. Chiediamo aiuto agli angeli quando siamo alle prese con decisioni importanti e non sappiamo cosa fare. Chiediamo aiuto agli angeli quando ci troviamo di fronte ad una situazione inaspettata e imprevista. chiediamo aiuto agli angeli quando abbiamo bisogno di infondere amore in una situazione o dobbiamo trovare le giuste parole per comunicare con gli altri. Chiediamo aiuto agli angeli ogni volta che ne abbiamo bisogno e non serve alcun rituale particolare per invocarli. Possiamo semplicemente ricordarci dei nostri amati angeli e dire mentalmente o ad alta voce «Angeli, aiutatemi per favore». Possiamo anche dire «Angeli, indicatemi la giusta via» oppure semplicemente «Angeli». E' una parola talmente potente e piena di amore che non servirà aggiungere altro e loro saranno sempre vicino a noi. L'importante è avere la consapevolezza che non siamo mai soli e che possiamo chiamare in ogni momento i nostri amici di luce. Non abbiate paura e non lasciatevi mai prendere dallo sconforto. Fatevi sempre aiutare dagli angeli e tutto andrà sempre bene.